Ci troviamo a Marina di Leporano, nella piazzetta di Santo Mai, un punto davvero bellissimo, soprattutto d'estate. E ora siamo qui a parlare di coronavirus, perché abbiamo quelle poche attività a cui il decreto ha consentito di restare aperte e appunto una tabaccheria, il cui titolare è Marco Cellammare. Vogliamo capire un po' lo stato ad animo del cliente, come si vive in questi momenti, perché poi voi siete uno dei pochi referenti per il cittadino, per scambiare due parole, per confrontarsi, perché è di una tristezza infinita vedere queste saracinesche chiuse. Certo, questo momento si sta vivendo con grande tensione, le persone sono spaventate, però nonostante questo noi offriamo un servizio al pubblico, cerchiamo di essere più gentili possibili anche per offrire uno spazio di svago anche nei limiti consentiti, rispettando ovviamente tutte le normative vigenti e quindi le persone cercano un attimino di prendere una boccata d'aria, anche se la situazione è abbastanza preoccupante dai dati, non tende a rientrare nella tranquillità. Anche perché diciamo che la gente va a fare la spesa, poi chiaramente l'edicola, acquistare dei prodotti di tabaccheria, insomma un minimo ci deve essere, la vita deve andare avanti, almeno l'illusione di non vivere un incubo, perché questo è un incubo. La gente è già stanca di rimanere rinchiusa in casa, essere obbligata a rispettare questo decreto molto restringente, però comunque nonostante il rischio sia abbastanza alto la gente vuole continuare a vivere, si fa forza e cerca in qualunque modo di uscire di casa e almeno vivere la giornata al miglior dei modi. È un problema forse soprattutto per gli anziani, perché poi sappiamo bene che l'anziano oltre alla fragilità fisica, che è pericolosissima rispetto al coronavirus, però l'anziano ha bisogno di un minimo contatto umano, sociale. Assolutamente sì, sono le prime persone da tutelare in questo momento, anche se comunque sì, bisogna aiutare in primis loro e invitarli comunque a stare il più possibile a casa, perché sono i primi in pericolo, però cercare comunque di mettergli a disposizione tutto quello che gli serve in questo momento. Intanto grazie a Marco per la disponibilità, forse sarà un'occasione quando tutto sarà finito, ormai corre l'hashtag, l'espressione, tutto andrà bene, forse per capire tante cose, per imparare anche a volere più bene alle persone che abbiamo di fronte, al prossimo, dobbiamo cercare di, talvolta anche di non prenderci troppo sul serio, di non fissarci, passatemi questa espressione, per tante piccolezze, ma avere una visione più ampia della vita. Questo momento in cui davvero il genere umano rischia e ci fa pensare, ci fa capire che su questa terra non siamo nulla. Assolutamente no, dobbiamo comunque ringraziare ogni giorno il fatto che ci possiamo svegliare, che possiamo goderci questo mondo fantastico, quindi rendiamoci conto bene di quello che abbiamo la possibilità di vivere senza doverci lamentare necessariamente di tutti gli altri problemi. E diciamolo insieme, tutto andrà bene. Tutto andrà bene.